Ma che cosa è successo nell'intervista a Sfere e Basta? Perché il rapper è così indignato? Ebbene, scopriamola in questa clip, davvero molto simpatica, ti lascio il video e mi raccomando iscriviti al canale. Quella collana è vera? No, me ne vado. No, no, no! Ma che domande, scusa! Minchia! Triplo disco di platino? Allora, ovviamente è di platinetto, la collana. Porca puttana! Non mi sarei mai aspettato una domanda del genere. No, ma cacchio, è impegnativa. La vuoi descrivere? È importante, è importante. No, no, devi descriverla bene. Cos'è, oro bianco, oro bianco, diamanti. Tembestato, diamanti. Tutti brillanti, ma tanti, cacchio. Te la sei fatta fare o l'hai comprata? Me la sono fatta fare e poi l'ho comprata. Ma questa è stata una domanda. Non te la dovevo fare. Tipo come quando ti chiedono, ma le canzoni te le scrivi te? No, vabbè, certo. È certo che me le scrivo io, chi me le deve scrivere? No, sai.